Anna Maria sappiamo che vuoi parlarci innanzitutto di una cosa Ma facetemi fare un programma, io ce l'ho una dietro l'altra Anche perché ho scritto il libro, caro amico di letto Ragazzi, ragazzi, caro amico di letto Con tutti gli amici di letto che abbiamo avuto Perché io ho avuto i miei alti e bassi, lo ammetto, ma me li sono fatte tutti Quindi, poi c'è l'amico di letto del cuore che è importante E noi leggiamo una pagina al giorno Che toglie appunto la malinconia di Torno, per esempio Dice delle cose serie e soprattutto contribuisce a un progetto Perché questo libro è stato scritto per la donna, per amore Per amore dell'incontro E poi c'è un incontro serio con il professor Martino Che tutti conoscono perché è uno scienziato di fama mondiale Io lo conosco anche personalmente E so che i soldi per la ricerca nel suo laboratorio Non si perdono in mezza viglia E curano questa malattia Che insomma, adesso poi stiamo parlando di cose allegre Perciò lo vedrete poi Però il libro, anzi facciamo una cosa Lo leggete per compito Poi ci rivediamo E mi direte, come dice Costanza Anna, non ho parole Solo parolacce Ricordiamo il titolo del libro Caro amico di letto E poi dite, mi dite E invece raccontaci di questo personaggio Allora questa donna È una donna come moltissime donne del nostro paese italino È una madre in Italy diciamo Ed è una donna paziente È una donna che sa prendere il suo marito Insomma, è anche forte Perché quando bisogna impugnare vero la situazione Insomma, è una donna che appunto C'ha quell'elisir che molte donne hanno Che la commedia all'italiana di un tempo celebrava Adesso l'abbiamo un po' perso questo nostro patrimonio Speriamo con Claudio Risi di recuperarlo Perché appunto io sono affezionata a questo regista E alla commedia all'italiana E quindi Costanza riporta un po' questa atmosfera No? Così Ma perché? Perché c'ha quel marito fantastico Che è mio marito che è Biagio Izzo Gennaro Che io chiamo Jenny E quindi si creano queste situazioni Insomma Oh, andate Poi io ancora non l'ho visto i film C'è come fate di Io l'ho rigirato Però non lo so Comunque quello che posso dire È che nella vita ci vuole un po' di Costanza Questo per cambare Perciò speriamo che non disturbi Ecco Come hai vissuto l'esperienza di questo ritorno al cinema Dopo tanto tempo? Allora, devo dire la verità? Allora, la verità è che Io appunto ho rifiutato Non si dice rifiutato Ho declinato l'invito per diversi Perché io amo la commedia all'italiana Se ci fosse Io sono felice Se nasce una risata di regalarla al pubblico Se nasce Se è sincera Se non è costruita ad arte Perché io dico Che l'umorismo È un po' come far l'amore Se tu ami Sai come toccare il tuo compagno O la tua compagna Però molte volte Chi crea l'umorismo Il produttore Pensano che il corpo del pubblico Abbia quei tasti Che tu solleciti E viene fuori la risata O il piacere Non è così Allora siccome Sconsi Che è stata tanto benvoluta dalla gente È stata poi un po' utilizzata Perché i produttori Molti Non tutti Investono più sul quattrino Che sul talento Allora io me ne sono un po' defilata Ora questo film Era comunque carino Anche perché la gente Mi cerca Mi vengono a stare a casa Allora io Allora ragazzi Cioè calmiamoci Facciamo un film Però il mio desiderio È di tornare Ma non tornare Cominciare Proprio il cinema Produttori seri Registi seri Fatemi fare il mio mestiere Io sono un'attrice Devo essere interprete Delle donne del mio tempo Oggi una risata Domani una lacrima Dopodomani un grido Una denuncia Se no il mio lavoro Non lo consegno Campo di rendita Su un personaggio E questo non è onesto Si percepisce anche Insomma da quello che ha appena detto Una volontà di svincolarsi Quello che è il personaggio Che l'ha resa celebre Televisivamente Appunto di sperimentare Di mettersi in gioco Ma non è il personaggio Da cui io mi voglio svincolare Ma l'uso Che talvolta ne viene fatto Mentre la gente Che è venuta in teatro Che veramente Mi dà tanto affetto Ma sul serio Ragazzi Io non posso andare Ma anche in ospedale Per come A me commuove E quindi io devo fare Il mio lavoro Con onestà Però da sola Non posso Perché senza la gente Non si fa niente Però neanche senza i produttori Neanche senza voi giornalisti Che ora eravate Una radio così allegra Ora tutti Forse serio Cioè non va bene Hai appena fatto riferimento Alla grande commedia italiana Quali sono gli autori Film in generale Che ami di più? Sicuramente Tutte quelle di De Sica Vittorio Poi anche di Norisi però Però abbiamo Claudio E confidiamo Confidiamo Ti piacerebbe misurarti Quindi con un ruolo drammatico? Devo Liberare la mia anima Che essendo un'attrice Non è poi mia Ma è Volevo dire Una cosa seria È tu È tu È tu È l'anima di lì Parliamo di palco È il prossimo spettabile Il prossimo progetto teatrale Allora il progetto teatrale c'è già Sapete già tutto Però io Dica qualcosa Anche non se ne ascolta voi Ho ancora scritto niente Come ci salgo sul palco? No la mia idea sarebbe Siccome il titolo è Non so voi Io desidererei fare un incontro Col pubblico Dove non scrivo niente E lo spettacolo nasce Nel Con la luce accesa E siccome la gente Nessuno l'ascolta Allora deve pure pagare Per stare zitta Allora venite Pagate Ma almeno parlate E ne parliamo insieme Come vi trovate in questa vita? Almeno con la mia generation Che prima eravamo Beat generation Ma siamo una zitt generation